Sul tema dei concorsi si è infranto il tentativo della ministra Azzolina di incassare il consenso dei sindacati. Il dato curioso è che entrambe le parti si dichiarano stupite per la rottura dei rapporti. I sindacati parlano di conclusione inaspettata. La ministra dice che la posizione sindacale risulta incomprensibile. Se si leggono con attenzione i documenti ufficiali diffusi dopo l'incontro del 29 gennaio ci si può fare un'idea della distanza fra le posizioni. I sindacati per esempio hanno chiesto che la prova del concorso straordinario non venga resa oltremodo difficile e si riduca di fatto ad una batteria di quesiti estratti da una banca dati da rendere nota in precedenza. Non solo, ma le organizzazioni sindacali ritengono anche che 80 quesiti in 80 minuti siano un eccesso e chiedono meno domande e più tempo. Altro punto decisivo. I sindacati chiedono che i docenti senza titolo di specializzazione, ma con tre anni di servizio sul sostegno, possano partecipare alla procedura concorsuale straordinaria per il sostegno. Il MIUR non è d'accordo e la protesta è forte. I sindacati poi chiedono anche una modifica sostanziale alla tabella per il calcolo del punteggio. Quella del MIUR prevede 50 punti per la prova e 50 per titoli e servizio. La richiesta è di attribuire 70 punti a titoli e servizio. Complessivamente, insomma, i sindacati vorrebbero una procedura concorsuale leggera e una graduatoria finale che tenga conto soprattutto del servizio precedente. Il Ministero vorrebbe invece introdurre elementi di valutazione di merito e competenze e quindi è inevitabile che lo scontro sia pesante. La conclusione è che i sindacati hanno dichiarato la ripresa dell'azione di mobilitazione, lanciata fin dallo scorso mese di marzo e ripetutamente sospesa. A fine aprile, dopo l'intervento personale del Presidente Conte, a inizio ottobre a seguito dell'intesa raggiunta con il Ministro Fioramonti e di nuovo a metà dicembre sempre dopo una ulteriore intesa con il precedente Ministro. Ma a quanto pare con Azzolina non c'è stato nulla da fare. D'altronde era stata proprio la Ministra in carica a mettersi di traverso più di altri al decreto voluto a fine luglio da Marco Busetti e approvato salvo intese dal Governo, decreto sul quale invece i sindacati si erano espressi molto favorevolmente. Questa volta non è servito neppure il tentativo di mediazione fatto in extremis dalla Vice Ministro Dem Anna Ascani, ma ormai sono lontani i tempi in cui i governi di un certo colore venivano considerati più amici di altri. La vicenda dei concorsi segna insomma, forse, un punto di svolta decisivo nell'intera storia delle relazioni sindacali nella scuola. Di questo tema ovviamente continueremo ad occuparci, quindi seguiteci su questo canale, ma seguiteci anche sul nostro portale www.tecnicadellascuola.it, continuate a leggerci ma soprattutto continuate a scriverci, mandateci i vostri commenti, le vostre osservazioni, noi ne daremo conto come sempre.